Continuiamo lo studio delle linee elettriche andando a vedere la caduta di tensione che si determina lungo la stessa che adesso riindividuiamo ridisegnando il circuito equivalente della linea con i parametri longitudinali RLXL che abbiamo determinato prima, abbiamo la tensione del generatore a monte di valore V1, la tensione sul carico di valore V2 la corrente di linea I, i parametri longitudinali RLXL concentrati, il carico ZL ovviamente siamo in regime sinusoidale, quindi le grandezze elettriche sono tutte dei fasori ovviamente per risolvere il circuito e calcolare la V2 potremmo tranquillamente utilizzare le regole che ben conosciamo per l'analisi dei circuiti in regime sinusoidale monofase mettiamo in evidenza qua la caduta di tensione lungo la linea VL e ovviamente sappiamo per la legge di Kirchhoff alla nostra semplice maglia che la caduta di tensione VL intanto lei sarà data dalla legge di Ohm generalizzata sui parametri longitudinali della linea data dal prodotto vettoriale I per l'impedenza di linea e quindi la V2 come vi dicevo per la legge di Kirchhoff alla maglia semplice mi dirà che la tensione sul carico V2 è data dalla differenza vettoriale tra la tensione a monte e quella caduta sulla linea ovviamente questa la possiamo risolvere con le tecniche che conosciamo come vi dicevo però quello che ci interessa adesso è utilizzare un metodo di calcolo più pratico, più rapido che ci consente di fare valutazioni rapidamente accettando una piccola semplificazione una piccola approssimazione ma che di solito risulta trascurabile nei casi pratici quindi intanto definiamo la caduta di tensione ΔV lungo la linea come la differenza dei valori efficaci V1-V2 e quello che vogliamo determinare è il valore appunto di questa variazione di tensione ΔV l'impedenza di linea la possiamo esprimere con il suo modulo ZL e il suo angolo caratteristico Φ per determinare il... no scusate stavo parlando dell'impedenza del carico ovviamente non di quella di linea ZL come appunto modulo fattore di potenza angolo caratteristico del carico Φ non della linea allora un calcolo approssimato della caduta di tensione in linea è esprimibile come prodotto del valore efficace della corrente per RL resistenza di linea per il cos Φ il fattore di potenza del carico più XL la riattanza di linea per il seno di Φ dove appunto Φ è l'angolo caratteristico del carico quindi questa formula semplificata ci consente di calcolare la caduta di tensione lungo la linea utilizzando il valore efficace della corrente di linea che sarà la corrente assorbita ovviamente dal carico e quindi anche quella erogata dal generatore e che utilizza i parametri longitudinali RL e XL della linea è il fattore di potenza cos Φ del carico quindi conoscendo questi elementi possiamo calcolare in modo rapido senza utilizzare numeri complessi la caduta di tensione ovviamente ripetiamo che si tratta di un calcolo approssimato ma l'approssimazione è solitamente accettabile soprattutto per valori del fattore di potenza non troppo bassi e questo tipo di caduta di tensione viene chiamata con questo calcolate questo modo viene chiamata la caduta di tensione industriale dove è da intendere un calcolo pratico che ci consente di valutare le situazioni impiantistiche reali in modo da rispettare i limiti di caduta di tensione lungo la linea quindi la caduta di tensione industriale la potremo calcolare in questo modo quindi la ΔV data dalla differenza fra la tensione a monte e la tensione a valle dobbiamo rispettare nei nostri dimensionamenti che questa caduta di tensione in qualunque punto della linea nei punti della linea più svantaggiati per i carichi più lontani non superi percentualmente il valore stabilito dalle norme quindi il ΔV massimo percentuale che le norme impongono nei nostri circuiti il valore percentuale ovviamente lo possiamo calcolare dal valore conoscendo il valore della tensione nominale di rete V1 quindi il calcolo sarà dato dal ΔV fratto appunto la tensione nominale per cento quindi questo valore percentuale è quello che dobbiamo controllare che non ecceda i limiti che imposti per la nostra allora allora